5 watt, 5 watt, aspetta che prova ad abbassare a 4, ah no è questo il manopolino, scusami eh Roger, dunque adesso esco con 3 watt, 3 watt è la mia potenza, QSL? complimenti nel che allivia, 9C perché a Siena, radio pulita, è veramente una bella radio, perché hai una radio pulitissima, capito? è il segnale forte con 3 watt, incredibile Roger, allora adesso facciamo lo sborone, abbassiamo a 1 watt, 1 watt la potenza, ecco in questo momento sono con 1 watt qui fai 8, 9, 8, 9, radio 5, 8, 9, radio 5, dubito che vai con quelle watt, incredibile, incredibile, incredibile veramente Alessandro, per te